Il monastero di San Paolo d'Agon è stato fondato nel 1089 ed è nato come Cluniacense. La sua origine è legata alla donazione di un fondo da parte del conte Gisalberto di Bergamo al monastero di Cluny. Il monastero fu realizzato in tempi abbastanza stretti e giunse nella sua forma romanica fino alla fine del Quattrocento, momento nel quale avviene il passaggio dal mondo di Cluny alla congregazione Cassinesi di Santa Giustina nel 1496. Questa è una tappa molto importante perché segna l'inizio di quella trasformazione che porterà il monastero ad assumere la veste nella quale si trova oggi. È stato tra l'altro trovato all'archivio di Stato di Brescia un fondo molto interessante costituito da due disegni che rappresentano la situazione esistente a quel periodo e l'ipotesi di una completa ristrutturazione che verrà nel corso del Cinquecento. Per questa ricostruzione i monaci chiamano da Brescia un architetto, sui documenti non se ne cita il nome, ma per analogie stilistiche, per il fatto che poi lo troveremo impegnato certamente nella realizzazione di alcuni ambienti del monastero, fu chiamato l'architetto Pietro Cleri, detto Isabello, uno dei più grandi architetti del momento. Suo è quasi certamente la realizzazione del primo chiostro, veramente pregevoli per le sue linee rinascimentali, la realizzazione del refettorio nel 1536, la progettazione del secondo chiostro avvenuto per gli anni Quaranta. Il complesso trova la sua ultimazione alla fine del Cinquecento e inizi del Seicento con la realizzazione del nuovo refettorio verso Oriente e delle stanze istituzionali, l'abitazione della Bate, la biblioteca, la sala capitolare, che sono collocate nella parte est del chiostro maggiore, che appunto vengono realizzate nel 1608. Quindi un'intera ricostruzione che avviene dal primo decennio del Cinquecento al primo decennio del Seicento. Altra tappa importante è la ricostruzione della chiesa abbaziale, ora parrocchiale, ma è appunto chiesa abbaziale, che rimane nelle sue caratteristiche romaniche fino alla seconda metà del Seicento, quando viene posta a mano alla sua completa ricostruzione a cura dell'architetto luganese Domenico Messi, che appunto nel 1684 ne realizza la struttura. È un esempio molto interessante dal punto di vista artistico, perché è veramente rappresentativo e significativo dalle tendenze artistiche di questi decenni a cavallo, tra il Seicento e il Settecento. In meno di cinquant'anni avviene non solo la realizzazione della parte strutturale, ma anche la parte decorativa, e questo è riuscito a conferire alla chiesa una notevole omogeneità stilistica, dovuta anche al fatto che i monaci solevano rivolgersi abitualmente, pur a distanza di decenni, agli stessi artisti o perlomeno alla stessa bottega. Quindi il complesso monastico all'inizio del Settecento si può dire completato dal punto di vista strutturale. Le tappe poi importanti della storia del monastero sono appunto quella del 1797, che coincide con la soppressione del monastero da parte di Napoleone Bonaparte, i monaci vengono allontanati, provvisoriamente vanno a Pontide, poi l'anno successivo sarà soppresso anche quel monastero, i beni vengono appunto confiscati e vengono dati all'ospedale maggiore di San Marco di Bergamo. Tutto il bene fondiario, che non si limitava al territorio di San Paolo d'Argon, ma si estendeva nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, quindi un notevole patrimonio e forse non a caso è avvenuta la soppressione napoleonica. Vengono poi dati, affidati in affitto da parte dell'ospedale maggiore a privati. Nel 1900 la parte fondiaria viene acquistata dall'Opera Nazionale Combattenti, che ha fatto grandi opere in Italia, ricordiamola l'Agro Pontino, e anche a San Paolo d'Argon ha fatto una grande azione di bonifica fondiaria, andando ad attribuire a 100 famiglie di contadini la proprietà. Per quanto riguarda la chiesa e il monastero, avviene l'acquisto da parte di due coniugi prometti, che la acquistano dall'ospedale maggiore, la donano al vescovo Bernareggi, che a sua volta la attribuisce, la assegna al padronato San Vincenzo, in buona parte, e alla parrocchia, che vi insedierà una sua casa circa dal 1936 fino agli anni 70. Il resto è storia di oggi. Grazie.